Ciao a tutti quanti e benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca, altro video haul, questa volta dei mesi dicembre e gennaio. Che cosa avrà comprato Luca? Scusate, in camera, caldo, c'ho 23 gradi e siamo il 13 gennaio, ma lasciamo stare. Che cosa ha comprato Luca in questi due mesetti? Allora, da OVS, visto che c'erano i daldi e quando ci sono i saldi ci piace molto, ho acquistato questa felpa monocolore, proprio colori allegri, questa felpa nera, che chi è a mio amico su Instagram ha già visto, con questo dettaglio scritto in ideogrammi che una mia carissima compagna delle medie, Alberta, ciao Alberta, mi ha tradotto con coloro che uccidono le persone, quindi la felpa, gli assassini, e poi l'ho pagata tipo 15 euro e da, sempre da OVS, per la serie trashate, stiamo trash, stay poraci, il box era il contanto di Angry Birds, 5 euro, 5 euro, e questo era OVS. Poi, da H&M, alla modica cifra di 9,99 euro, che io mi sono sempre chiesto, ma che cazzo me ne faccio io del centesimo per risparmio? Metti 10 euro e fai tutti più contenti? No, a fine mese mi trovo il portafoglio pieno di un centesimo, un centesimo, un centesimo, cazzo ci faccio, neanche le macchine del bar l'accettano. Ho preso sempre questa felpetta, sempre colori molto allegri, nera, con scritto The Best Present Ever, il miglior regalo di sempre. Ora, sì, è mezza felpatina dentro, però, vabbè, ci piaceva, così l'ho presa tanto per facciare un acquisto anche da H&M. Poi, avete già visto che dal mio amico Michele mi ha, per il compleanno, mi ha inviato questa bellissima felpa di Star Wars con Dark Vader, che è sempre il top, e tiene un caldo boia, scusate se è stropicciata, ma domani devo stirare. Poi, mi sono scordato, da UBS ho comprato anche questo paio di jeans della denim, molto classici, normali, con questo piccolo dettaglio, il gratto ma graffiato, i pantaloni, così, e sono della taglia 46, perché il sottoscritto durante le feste si è mantenuto sui 57-58 kg, e adesso che sono in ferie, spero di non riprenderli. Ok, ci sono questi. Poi, poi, dai China, perché c'è un negozio qui che si chiama Ni Hao, si chiama, in terraferma, ho preso questo paio di jeans, molto scoloriti, molto chiaro, che sì, sono alquanto carini, anche perché qui c'è il dettaglio del bottoncino a bandiera dell'Inghilterra, e dentro le tasche sono un po' a fiori, così. E tipo, l'ho pagato prima 24, ma con i super sconti l'ho pagato 9,90 euro, una cosa del genere. Poi, la seconda trasciata dei cinesi, scusate, ma adesso capirete queste mosse, sono praticamente questi boxer dalla stampa, scusate, li avevo indosso, questi boxer in finta stampa jeans, una trasciata, lo voglio prenderlo prima di Capodanno, ho detto, ma mi prendo le classiche mutande rosse. No, voglio iniziare l'anno con la trasciata, e quindi ho preso questi qui, ti ho pagato 2,25 euro, sono molto comodi e molto carucci. Adesso me li rimetto, perché non mi sembra caso di rimanere così al vento. E quindi, erano questi qui i miei acquisti, dei mesi di dicembre e gennaio, le cosette che mi sono comprato per Natale da Aliexpress, devono ancora arrivare, strano, ma vero. E niente, quando arriveranno farò o un video separato per ogni cosa, o un video tutti e tre insieme. E niente, ci vediamo un prossimo video, potete seguirmi su Facebook, Instagram, Google+, dove volete, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono queste cagate che faccio, e ci vediamo un prossimo video. Ciao a tutti quanti!